Cominciano oggi 3 agosto gli interventi di pavimentazione per un'estensione di circa un chilometro sulla A19 Palermo-Catania in corrispondenza dello svincolo di Caltanissetta. Lavori eseguiti di intesa con la regione siciliana, secondo quanto comunicato da ANAS, e che si prevede dureranno una settimana circa, cioè sino a mercoledì 10 agosto. Gli interventi rientrano nell'ambito dei lavori di ammodernamento della strada statale 640, la strada degli scrittori. I restringimenti di carreggiata, si legge ancora nel comunicato, con chiusura alternata delle corsie di marce e sorpasso, saranno imposti in prosecuzione a quelli già esistenti e per un'estensione limitata, senza ulteriore impatto sulla circolazione autostradale.